I modelli geologici 3D possono essere utilizzati da tecnici, progettisti, decisori e cittadini per diverse importanti applicazioni e per acquisire conoscenza e consapevolezza. Geologia delle aree urbane. Gli utilizzatori, dal cittadino agli esperti di settore, geologi, ingegneri, geometri, possono utilizzare le informazioni dei modelli geologici 3D per comprendere meglio la geologia del sottosuolo della città in cui si vive. Per la progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, garantendo la sicurezza dei cittadini. Per ridurre il consumo di suolo in superficie, utilizzando il sottosuolo come spazio per lo sviluppo di attività quali la circolazione dei veicoli. Per lo studio della risposta sismica locale. Attività di stoccaggio. I modelli geologici 3D sono indispensabili nella individuazione di porzioni di sottosuolo idonee allo stoccaggio energetico, allo stoccaggio per l'abbattimento delle emissioni di CO2, allo stoccaggio di rifiuti per un tempo molto prolungato. Gli utilizzatori possono acquisire conoscenza e consapevolezza sul contributo che il sottosuolo dà alla gestione sostenibile delle risorse e del ciclo dei rifiuti e alla riduzione dei gas serra. Risorse idriche e falde acquifere. I modelli geologici 3D sono fondamentali per la gestione e tutela delle risorse idriche sotterranee, fornendo agli utilizzatori, dall'imprenditore agricolo alle grandi industrie, informazioni sia per individuare nuove falde acquifere, sia per proteggere le esistenti, regolandone il consumo e tutelandole da contaminazioni da sostanze inquinanti. Risorse geotermiche. I modelli geologici 3D forniscono una base di conoscenza per l'individuazione e la comprensione dei meccanismi che regolano i serbatoi geotermici presenti nel sottosuolo, sia in aree urbane che non. Sono quindi di ausilio per la pianificazione e la gestione di una fonte energetica rinnovabile in un'ottica di progettazione di edifici, attività industriali e infrastrutture a basso impatto ambientale. I modelli geologici 3D sono indispensabili per studiare e comprendere il comportamento delle faglie, soprattutto se queste sono potenzialmente sismogeniche, ossia in grado di generare terremoti. Gli utilizzatori, dal cittadino ai tecnici comunali, ai geologi e altre figure professionali, possono quindi disporre di informazioni necessarie per stimare la pericolosità connessa ai terremoti. La stima della pericolosità è un elemento indispensabile alla valutazione dei rischi, soprattutto ai fini di progettazione e costruzione di edifici, case, scuole, con criteri antisismici per una maggiore sicurezza del territorio in cui si vive. Per garantire a tutti la possibilità di utilizzare queste fondamentali informazioni, è disponibile sul web GeoIT3D, il visualizzatore che consente di navigare nel sottosuolo, interrogare i modelli ed effettuare il download dei dati in formato aperto.